un ciappazzo proviamo a dire la nostra parola mattina matti ciao ok ora vorrei fare una bella cosa prendetela 3 2 1 buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornate qui con un nuovissimo video questo video si tratta di un video molto bello perchè mischeremo insieme delle paste magiche Giulia ma io di paste magiche qui non ne vedo nemmeno una e chi ce la porta? non so dai usiamo una parola magica magari accade magic magic 1 3 2 1 go magic è arrivata ora 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 la prossima la rotolo io facciamo allora facciamo magic di nuovo troppo la rotolo la dobbiamo schiacciare passiamolo un po' troppo vai pronta? no io la voglio viola questa volta ok vai vai magic ecco questa è quella di ditta al mio colore si questa è perchè è grintiata si adesso non voglio più di viola di cosa no? di blu perchè a me il mio colore preferito è blu e gioletto ok vai magic è arrivata bella aspetta però questa voglio toccarla un attimo non l'ho dato là un attimo perchè questa è l'unica che è arrivata blu aspetta aspetta dai muoviti dai Giulia veramente però io ora voglio un viola però che non cambia colore anzi un viola che non cambia colore vai dai magic magic uh bella è perlata odora c'è no dai che odore odio come la tocco l'ultima volta bellissimo che adoro cioè adoro cioè adoro adoro ora che colore vuoi? ora hai un grigio che cambia colore chissà chissà se ci sarà do proviamo a dire la nostra parola magica magic un altro quello lì che cambia colore buonissimo odore ma un odore che non riconosco io ora aspetta io voglio tipo un lilla bello chiaro chiaro dai parola magica magic non è arrivata aspetta aspetta riproviamo 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 magic più forte insieme a noi l'ho dita insieme a noi 3 2 1 go magic eccola eccola è arrivata è arrivata bellissima mi piace la perfezione mi piace la perfezione ah che bella dai scusami 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 ok ora vorrei fare una bella cosa prendila è anch'io guardate è un microfono la 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 si misi a cantare siamo due vai vai che fai ah ok dai ora vai tira tu da una parte no 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 è una persona dell'unicorno ti resta in testa e ci rimane tutto il giorno un passo avanti un giro intorno ci vestiremo tutti quanti da unicorno ok dai basta dai tiriamo che è arrivato il momento oddio no dai meschiamo non ce la faccio io già non ce la faccio bellissima secondo me cambierà pure un pochino colore si secondo me viene sui toni del blu viola oppure viene grigio ma è passare potevamo cattare marghe più giulia potevamo fare e vabbè dopo lo rifacciamo il microfono è proprio colorato dai dai basta basta aspetta un attimo aspetta vediamo facciamo un po' ciascuno è difficile da mescolare anzi facciamo metà tieni secondo me secondo me il colore non mi piace vai mescola che tipo non è per i miei toni i miei toni non sono solo blu cioè ne abbiamo messi il blu si prende c'è tutto il blu che non mi piace guardate 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 più vicino dovete stare più vicino dovete stare guardate no proprio perché non si vede guardate questo fatto qua non si vede no non si vede no purtroppo non mi guarda perché non mi schiacciate ti tolgo perché dai giulia mescola 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 muoviti dai uniamo hai mescolato bene no dai dai basta stiamo facendo troppo d'arangelo facciamo una pallina facciamo una pallina dai dai facciamo il microfono dai vieni metti le mani facciamo il microfono anzi 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 così e facciamo una pallina no pure io pure io arrotoliamo facciamo la pasta magica magica e dove c'è sotto una ahahah ahahah ok è diventata aspetta è diventata una pallina da basket wow wow ahahahahah ahahahahah ahahah 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 che figa ma 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 non l'ho detto ma ahahah ahahah qual è il mio cuoresino vieni vieni dai tu tiri di qua io di la vai Giulia dai muoviti ma stai fati da sola e dai mua vai muoviti e dai 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 basta quindi 3 2 1 quindi ragazzi questo è il video spero vi sia piaciuto a noi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii 33 basso official su facebook marghe giulia kawaii real sul secondo canale magic tv magic 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 tv su musical vi piaccio la marghe giulia kawaii real e se volete le maglie le cover le tazze e tantissime altre cose di tantissimi altri colori andate su bu 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 su marghe giulia kawaii ricordatevi che io marghe io giulia insieme a voi informiamo la marghe di cuffelli e cioè amore puro se vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto shhhh